ANSA, Roma, 14 dicembre litigheranno prima, durante e soprattutto dopo, ma il giorno delle elezioni fingeranno di stare insieme per racimollare qualche seggio in più. Tutto legittimo, sia chiaro, ma si tratta di ipocrisia che tutti sanno e tutti fingono di non vedere. Così Matteo Renzi su FB su questo punto il PD è paradossalmente più forte e credibile. La rottura con la sinistra radicale ha amareggiato molti militanti storici, ma ha il pregio di fare chiarezza. E consentirà a tutti noi di fare una campagna elettorale civile e rispettosa, basata sulle idee per l'Italia.